segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te mi viene quasi a dire non chi l'ha fatto fare che un modo sciocco perché quando ci si impegna in generale ma soprattutto in politica si immagina che ci sia una fortissima motivazione per cambiare le cose ma lei ha deciso di candidarsi alla presidenza della regione lombardia con una sua lista che è appoggiata dal terzo polo perché il centrodestra non l'ha voluta tra l'altro maiorino oggi ha detto che la meloni non l'ha voluta e salvini le ha preferito fontana e quindi intanto mi hanno offerto diverse cariche a me le cariche non interessano preferisco gli incarichi e poi amo la mia regione e quindi ho davvero scelto di essere a disposizione della mia regione di rimettermi al servizio della mia regione peraltro come ho fatto quando da tecnica sono stata chiamata a dare una mano in un momento in cui la regione era in particolare difficoltà nell'ambito del del covide del piano vaccinale quindi mi sono rimessa a disposizione della mia regione l'ho fatto perché la amo ho rifiutato incarichi che mi sono stati proposti e ho preferito e credo che sia una scelta coraggiosa lì perché io ho scelto di lasciare una poltrona di non accettare altri incarichi e di mettermi in a disposizione dei miei concittadini ma il centrodestra le l'ha chiesto di candidarsi no non le l'ha chiesto la verità è che comunque non mi ha proposto diversi incarichi per esempio diverse beh non credo che sia corretto rivelare però me ne ha proposti diversi e tutti molto importanti ho preferito a fare una scelta diversa se posso l'è stato offerto un ministero nel governo meloni come si è sussurrato anche in pubblico sui giornali c'era un'ipotesi ma non non si è concretizzata lo avrebbe accettato tante ipotesi diverse ipotesi di partecipate importantissime c'erano diverse ipotesi ma se posso io credo che sia non sia così importante pensare parlare delle cose che mi sono state offerte a me piacerebbe parlare delle cose che sulle quali mi voglio misurare mi voglio misurare col centrodestra mi voglio misurare col centrosinistra in uno scenario che è profondamente cambiato in uno scenario che forse deve far riflettere sulla necessità di riempire un vuoto politico che in questo momento si sta creando nel nel centro c'è un